Sicuramente chi è amante della musica, soprattutto dell'ascolto musicale in streaming, avrà sul proprio telefonino installato Spotify. Beh, sappiate che esistono anche alternative, talvolta anche gratuite, e proprio di un'alternativa gratuita vi parlo oggi. Un'applicazione rilasciata da pochissime ore nel Play Store, ancora per i terminali iPhone, quindi con iOS, quindi sull'App Store, non è ancora stata rilasciata. Quindi per tutti i telefonini Android c'è questa applicazione che ve la racconto tutta in questo video. Allora ragazzi, la prima cosa che dovrete fare è andare sul Play Store e andate a cercarvi Flow, l'applicazione sviluppata da Commodore, questo è il loghetto, la installate e ve la ritroverete sul vostro telefonino. Andrete ad eseguirla, questa è l'animazione, completamente gratuita l'applicazione, non dovrete pagare niente. L'interfaccia è piuttosto semplice, secondo me verrà abbellita anche con i nuovi aggiornamenti. Vi spiego in breve cosa potrete fare. Ricerca, e quindi andrete a ricercare il vostro artista o la vostra canzone. Una volta trovata tutta la lista dei brani disponibili da YouTube, non dovrete altro che premere Play. E questa canzone verrà riprodotta. Non solo potrete andare a inserire la canzone fra i preferiti, potrete andare a condividerla con un vostro amico, potrete andare a aggiungerla ad una playlist. Playlist, vedete, ne ho create tre, le playlist si trovano qua in questo ultimo angolino qui in basso a destra, lo rinominate Dance, Rock e House, ma potrete chiamarle anche Pinko Pallino. Yes, quindi andrete a creare la playlist Pinko Pallino. Nel cuoricino troverete tutti i brani che ho selezionato col cuoricino, quindi i preferiti. Qui abbiamo la ricerca fra i recenti, quindi i brani che ho ascoltato ultimamente. Se vogliamo inserire un brano in una playlist, vado sulla nota musicale, la vado a inserire in Pinko Pallino e adesso io senza dovermi ricercare la canzone, vado ad eseguire la playlist Pinko Pallino. E via, quindi tutto molto accessibile. La lista delle canzoni che avete ascoltato è eliminabile cliccando qua Clear Recent Replayed List e quindi andiamo a svuotare il tutto. È molto interessante notare che, a differenza di molti lettori che, se vado a mettere il telefono in stand-by, si bloccano, come ad esempio il classico lettore di YouTube, qua la canzone continua. Ora, ho abbassato il volume per non darvi troppo fastidio. Vedete che è in riproduzione. Per andare a stoppare il tutto dovrete necessariamente bloccare la canzone oppure stopparla direttamente dal menu della schermata di blocco e sblocco. E quindi zero pubblicità in questa app, gratuita, e le canzoni si sentono anche con il display del vostro telefono in stand-by. Abbiamo visto quindi l'applicazione Flow per dispositivi Android in questa breve recensione. Beh, perché scaricarla? Sicuramente perché è gratuita, perché non ha pubblicità al suo interno e perché permette di categorizzare i propri brani, quindi creare le playlist. E per ultimo, ma non per ultimo perché è la cosa che mi è piaciuta tanto, vi consentirà di ascoltare la musica anche con l'applicazione in background. Sì, perché potete spegnere i display del vostro dispositivo, eccolo qui, e questo continuerà a riprodurre la canzone. Questa è una cosa che non vi permette di fare qualsiasi app che voi scarichiate. È una cosa molto interessante. Detto questo, andate a scaricarvela nel Play Store se avete un dispositivo Android, fatemi sapere quello che ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video.